Yamme yamme, in coppe yamme ya! E si cari amici dei gemelli, avete proprio capito bene. Napoli è il luogo che dovete visitare almeno una volta nella vita. Una città sempre in movimento, dove potete curiosare tra le strade, conoscere la gente e imparare la storia di questo popolo. Insomma, mai potreste annoiarvi. E visto che vi piacciono i bei paesaggi, beh, è d'obbligo scegliere un alberbo che abbia una visuale mozzafiato, come quella che vi regalerebbero il Golfo ed il Vesuvio.